ciao a tutti amici del web abbiamo appena finito una bellissima intervista con luca filieri dello studio apogeo ma di cosa abbiamo parlato luca abbiamo parlato della storia dello studio di cosa ci occupiamo come studio apogeo di come funziona il nostro lavoro della strumentazione che utilizziamo poi di chi sono i nostri clienti e poi abbiamo anche dato un consiglio per chi si vuole approcciare questo mestiere esatto quindi se volete avere maggiore informazione vedere l'intervista in versione integrale la trovate sul sito internet studio apogeo punto it oppure sulla nostra pagina live social radio ciao a tutti amici del web ciao